Il Piemonte ha per il PNRR al momento attuale un costo ammesso di 4,2 miliardi compresa una quota di progetti nazionali, come si evidenzia dal sistema Regis Banca Dati del MEF distribuiti su 10.093 progetti presentati da 1.845 soggetti. Lo ha evidenziato la presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Maria Teresa Polito, durante l'audizione in commissione bilancio sullo stato dell'arte del piano nazionale ripresa e resilienza, nonché sulla gestione delle leggi di spesa su cui la Corte dei Conti, è stato sottolineato, esercita un ruolo preventivo e di ausilio relativamente agli enti locali del territorio. Individuare i margini di rischio sia nell'attuazione, sia nell'infiltrazione, sia nelle difficoltà che gli enti possono avere. In una realtà come quella piemontese, che è piena di piccoli enti, difficoltà ce ne sono tante. Bisogna mettercela tutta però, perché un'occasione di questo tipo è irripetibile. Per quanto riguarda le leggi di spesa, il primo referendario, Laura Alesiani, nel corso della sua relazione ha espresso apprezzamento per gli strumenti di valutazione e monitoraggio finanziario di cui si è dotato il Consiglio e ha invitato a proseguire il lavoro a livello regionale, sottolineando l'esigenza che l'iter legislativo di approvazione delle norme, anche con riguardo agli emendamenti, debba ricevere una preventiva e adeguata quantificazione degli oneri finanziari correlati.